non ve lo aspettavate neanche voi ma sì finalmente a creative life ha ripreso a fare anche i voice over in questo video praticamente copro tutto il mese di maggio a maggio sono tornata a roma infatti la valigia che avete visto che disfacevo era quella di roma prima di andare poi a copenhagen e io vivo a milano comunque qui sto facendo praticamente la valigia per copenhagen e niente ragazzi questo mese di maggio è stato super bello e in questo piccolo vlog vi porto a spezzettoni con me e ci saranno anche un sacco di aggiornamenti quindi cominciamo non avrei assolutamente voluto iniziare il vlog in questo modo ciao ragazzi benvenuti o bentornati a un nuovo vlog domani vado a copenhagen e c'è un macello perché a milano diluvia nonostante sia il 17 maggio e non so cosa portarmi perché fa più caldo a copenhagen che a milano vi dico solo questo però mi voglio vestire a strati voglio fare una valigia intelligente perché seppure ho solamente il piccolo bagaglino a mano voglio lasciare un po' di posto libero perché ovviamente voglio fare shopping perché la mia prima volta a copenhagen comunque ci tenevo a scusarmi solamente per il caos perché mi sono svegliata da poco che non è suonata la sveglia tra pochissimo devo lasciare casa perché devo andare dalla psicologa però voglio fare la valigia e voglio mostrarvi come la organizzo per bene perché ovviamente già abbiamo fatto la valigia nel video precedente perché la settimana scorsa sono stata a Roma però stavolta è proprio super intelligente perché quando sono andata a Roma ero in treno di conseguenza non avevo problemi di peso e paura che comunque le cose non mi entrassero in valigia mentre invece adesso è un bel problema anche perché non prendo l'aereo da tre anni a causa di problemi di salute e cose varie domani sarà un grandissimo giorno sono felicissima anche perché è mio compleanno vabbè comunque come potete vedere ho dovuto mettere lo stendino dentro casa ho cappotti e cose ovunque perché anche ieri sono tornata tardi che c'ho avuto un evento e non ho messo a posto però ci tenevo troppo a mostrarvi che cosa mi porto quindi questo vlog sarà un po' confusionario però ci tengo appunto a continuare questi Milano Diaries e mostrarvi che cosa porto a copenhagen al momento vedete sono cioè mi sono appena svegliata sono struccata sto facendo le prove per l'aeroporto penso che andrò così semplicemente in aero non ce la faccio devo mettere a posto non ce la faccio a mostrarvi casa così vabbè facendo le prove soprattutto sto cercando di capire che cappotto mettere quindi adesso sistemo un pochino casa poi magari prendo il cavalletto e vi mostro per bene gli outfit perché sennò così non si capisce niente purtroppo sono rientrata da poco il caos è ancora lo stesso e intanto si è fatta notte sono le otto e mezza ho avuto un po' di problemini questo pomeriggio sia a livello lavorativo che un po' di mal di stomaco ancora mi porto dietro un'influenza che ho avuto ben due settimane fa allora alla fine penso che porterò semplicemente questo cappotto perché sentendo la mia amica fa freddino la sera quindi mi metto il cappotto e sto a posto e questo beige diciamo non è un cappotto nero di conseguenza dà un pochino l'idea primaverile anche se fa freddo diciamo la temperatura media è di 5-15 domani soprattutto e di conseguenza questo è l'outfit che penso indosserò o sabato o venerdì domani o giovedì adesso vi mostro sia l'outfit che indosserò per il treno che domani sera che è il mio compleanno scusate se sono struccata ma sono appena tornata dalla palestra due outfit domani uno uno e mezzo dopo domani perché poi esco dall'albergo e non torno tutto il giorno sicuramente quindi un outfit venerdì un outfit sabato e un outfit domenica sempre per rientrare perché poi domenica parto di mattina verso le 10 di conseguenza questo è un outfit e le scarpe che porto porto solamente un paio di scarpe sono felicissima della valigia non so se ve l'ho già detto semplicemente perché sono riuscita a mantenere mezza valigia vuota poi domani magari ve la faccio vedere praticamente porterò due paia di jeans questo che è un jeans che ho dal 2018 comodissimo di zara elasticizzato è una tuta non mi interessa devo trovare la cintura abbinata cioè la cintura che metterò in entrambi i casi questo cappotto di other stories e questa magliettina che avete già visto di gerf avenue che adoro come borsa invece andrò a mettere questa simil bottega veneta di looks like summer in cui entra il mondo anche se non porterò tanta roba perché ho problemi al collo occhiali da sole un solo paio di orecchini devo ancora decidere se voglio stare con l'oro o l'argento e questa golanina che ho ripescato dal cassetto del dimenticatoio a roma che è di tiffany quindi me la sono pulita e adesso me la metto devo scegliere anche gli anellini da mettere per il viaggio e come scarpe che adesso mi devo andare a pulire perdonate la qualità del video ma ci tengo troppo a mostrarvi quello che sto indossando andrò a mettere loro che sono le adidas gazelle che ho comprato a bergamo ne autobre 2022 e sono comodissime comunque se piove o se prendo una pozzanghera le devo lavare fanno schifo però sono comode pratiche e in questi casi serve la praticità quindi un paio di jeans elasticizzati una magliettina comoda e stiamo a posto questo è il look che probabilmente indosserò domani stessi pantaloni stesse scarpe e questa magliettina che sembra nera ma in realtà è blu navy di muji che è metà seta e metà cotone che ho da il 2017 che è eccezionale non le producono più e sono tristissima perché è uno degli acquisti migliori che abbia mai fatto l'ho messo in lavatrice 500 volte non si è mai rovinato stupendo se riuscite a trovarle da muji super consigliate mi sembra che questa è la collezione uomo metterò questo in aeroporto un'altra alternativa per l'aeroporto è questo maglioncione super caldo di zara senza forma che però è super comodo perché è bello heavy bello thick sembra di qualità ma in realtà è de zara se mi fa impazzire però è caldo e comodo l'unica cosa è che come una scema l'ho provato e l'ho sporcato di make up l'altra volta e tutti questi outfit stanno benissimo ovviamente col cappotto cammello dopodiché adesso abbiamo cambiato pantalone e abbiamo messo questo pantalone a zampa di aiuto di mango che già vi ho mostrato nel nuovo haul che ho postato sia negli short qua su youtube che su instagram che su tiktok le scarpe sono sempre le stesse questo pantalone è eccezionale devo trovare ancora la cintura questa bellissima maglietta di seta di livisilk come potete vedere io ho capi basici di qualità che mi durano da una vita livisilk ce l'ho dal 2020 solito cappotto solita borsetta e stiamo a posto anche stavolta per concludere dal momento che non ho il reggiseno non vi posso far vedere non posso togliere la mano insomma comunque quest'altra magliettina che è un po' trasparente sempre di zara sempre di zara presa un annetto e mezzo fa che è comunque carina i pantaloni bianchi le scarpe bianche e il cappotto beige ci dovrebbe stare molto molto bene e per finire non so se portare o meno questi pantaloni di cotone molto leggeri però di massimo dutti che però dovrei stirare quindi non lo so ciao amici buongiorno oggi andiamo insieme a copenaghen ho già filmato qualche video per instagram andrò a copenaghen per tre giorni e mezzo diciamo oggi è il 18 maggio ed è il mio compleanno e e niente prenderò l'aereo il giorno del mio compleanno felicissima e non prendo l'aereo da prima che iniziasse il covid perché c'è stato il covid poi ho avuto dei problemi di salute e non sono potuta uscire dall'Italia ho fatto viaggetti ma solo in Italia molto pochi rispetto a quelli che facevo prima soprattutto se mi seguite dai tempi dell'università in cui viaggiavo praticamente una volta al mese ci tengo a mostrarvi quello che sto indossando ci tengo a parlare un pochino qua adesso perché poi non so quanto riuscirò a vloggare a copenaghen a livello di parlata e magari farò un voice over non lo so però ci tenevo a portarvi con me mi porterò la macchina fotografica e niente ho già fatto come vi ho già detto un video su instagram dove vi mostro che cosa sto indossando però ci tengo a dirvi che cosa sto indossando anche qua su instagram farò anche che cosa c'è nella mia borsa quindi cosa porto nella borsa che sta là con tutti i miei essential quando viaggio sto già sudando la temperatura a copenaghen è di 5-15 quindi fa abbastanza freschetto in aeroporto voglio stare calda perché non voglio avere problemi soprattutto alla cervicale alle spalle sto indossando questo maione stupendo di Muji questa cinturina che ho preso in un negozietto a Milano e questi pantaloni di cotone di Massimo Dutti come scarpe le uniche che mi porto sono le adidas gazelle quelle bianche impermeabili che ho comprato a Oreo al serio a Bergamo e niente sto morendo di caldo come orecchini ho questi mi porto quelli di cost che già vi ho mostrato in qualche altro video semplici cerchi e questi di Ana Luisa di tantissimi tantissimi anni fa almeno 4 anni fa questi occhiali da sole che in realtà utilizzo come cerchietto che sono di mango e come anellini ho questi due argentati vediamo se si zooma sì che sono di Stroili che metto sempre poi ho questo che è il mio coro che amo lo smartino è di Chanel ballerina questa è la mia borsa vi mostrerò all'interno su Instagram quindi seguitemi là e su TikTok questo è il mio cappotto questo di Other Stories e come sciarpetta penso che vi porterò questa giusto per dare un po' di primavera questo outfit molto neutro questo lilla azzurro questa sciarpa di lana di Uniqlo che però mi porto semplicemente perché è super sottile ed è facile da mettere in borsetta e secondo me è super cute bene questo è il look eccoci qui con il what's in my bag come potete vedere questa valigina è abbastanza vuota devo dire anche perché qui ho praticamente cibo quindi ho lasciato un pochino di posto per shopping qui dentro ho tutte le cremine mentre qua ho i pennelli di il trucco qua in questa bellissima pouch di nuori ho praticamente il proprio make up mentre qui ho solo i pennelli dopodiché dei jeans ho portato tre paia di pantaloni alla fine questi i jeans e i pantaloni bianchi ho portato la mia splendida stupenderrima molto presto disponibile su creativelife.com tote bag che è sempre comoda felice intorno a mille piccole cose belle che sarà molto presto disponibile appunto sul mio shop online e però farò delle modifiche perché voglio colorare appunto la pasta quindi ristamperò per bene il tutto e niente bellissima tenete d'occhio il mio shop online e il mio instagram perché vi avviserò molto molto presto qua ho messo tutti i vestiti all'interno di questa bag di polen ho messo mutande reggiseni pigiami mentre i calzini stanno qua insieme all'acqua micellare e alla spazzola e poi qua ci sono tutti i vestiti che vi ho mostrato anche ieri messi metodo mary kondo è tutto qua pensavo sarebbe durato molto di più ma that's it ragazzi che dire ragazzi copenhagen mi è piaciuto tantissimo sono stata fortunata perché ho trovato un tempo meraviglioso e faceva relativamente caldo c'erano quei 5 gradi la sera che davano fastidio però ho visitato dei posti bellissimi veramente in meno di 4 giorni in 3 giorni praticamente 2 e mezzo quasi 2 e 3 quarti sono riuscita a fare tantissimo ho mangiato da dio e potete seguire tutte le mie avventure praticamente su instagram perché qui con la telecamera ho vloggato poco cioè ho filmato un po' di cose ma poco rispetto a quello che ho fatto con il cellulare e ho fatto ben 4 video ve lo dirò poi anche nel corso del video 4 reel che trovate anche negli short di youtube in cui vi parlo passo passo della mia giornata a copenhagen e veramente è stata una città bellissima in cui sicuramente ritornerò perché ho delle amiche sono stata entusiasta di essere finalmente ritornata a viaggiare dopo quasi 3 anni non prendevo l'aereo appunto da 3 anni e nulla ho deciso di creare su instagram anche una serie chiamata appunto creative adventure dove andiamo insieme soprattutto quest'estate e quest'autunno alla scoperta di paesi posti italiani europei raccontati da me quindi parleremo di cibo lifestyle localini carini design e vi porterò con me nelle mie avventure veramente un sogno felicissima di questo andatemi a seguire su instagram e racconterò tutto anche qua buongiorno amici è passata una settimana dall'ultima volta che ho preso in mano una telecamera sono tornata da copenhagen e questa settimana è stata super impegnativa ma super piacevole sinceramente a livello lavorativo perché ho lavorato terminato totalmente tutte le cose dello shop online e questa settimana metterò tutto live quindi probabilmente quando uscirà questo video mancherà pochissimo prima dell'uscita di tutti i prodotti borse, stampe, maglie e servizi su agriativelife.com oppure è già tutto uscito da poco comunque sono qui per ovviamente aggiornarvi per mostrarvi le cose le cosettine che ho comprato a Copenhagen e come vi ho già detto siccome questa settimana sono struccata comunque perché sto andando in palestra siccome questa settimana ho avuto un po' di eventi ho ricevuto delle cosette che penso vi possano interessare sono tutte cose gift però non lo so ho voglia di dimostrarvi appunto che cosa ho comprato a Copenhagen e mostrarvi che cosa ho ricevuto come gift in questi ultimi giorni quindi diamo inizio al video cominciando da quello che sto indossando e ossia sono stata innanzitutto guardate cosa ho appena ricevuto trascurate l'armadio aperto dei fiori di colvin adesso ve li faccio vedere meglio sono delle peonie ho un po' di caos perché ho fatto un po' di foto appunto per lo shop online stasera ho un evento al dom di milano quindi un evento molto molto carino devo scegliere cosa mettere però siccome ho finito di lavorare ho pranzato e mi voglio fare una bella doccia e assoluto ne approfitto anche per fare una sauna vado in palestra sono in realtà vestita da palestra perché ho i leggings e il toppino da workout sotto però mi sono messa su una camicia per andare appunto in palestra e poi mi sono provata delle ballerine che mi sono appena arrivate da un brand che già adoro conosco e indosso le loro scarpe e le loro sabate da un sacco di tempo sia la loro ballerina che è anche il proprietario mi sembra di baby shoes comunque non sono sponsorizzata è solamente un gift e mi hanno inviato le ballerine che praticamente senza saperlo ho sempre voluto che le sto cercando da un annetto e mezzo ossia delle ballerine argentate eccoci qua questo è il mio look super super semplice scusate se c'è rumore ma c'è probabilmente il camion della spazzatura che sta passando queste sono le adorabili ballerine quelle sono le ciabatte di baby shoes quelle che vedete là comunque queste sono le ballerine che mi hanno inviato sono bellissime sono tutte di pelle sono comodissime la cosa fantastica è che qua si possono stringere in modo tale da assottigliarle in base al proprio piede io ho il piede molto molto sottile di conseguenza sono fantastiche cioè io faccio molta difficoltà a trovare le ballerine dopodiché sto indossando ormai le sto indossando da sempre loro che è la mia nuova collanina di pd paola ho fatto anche un reel che potete trovare sul mio instagram e ho ricevuto appunto pd paola è un brand che indosso da tantissimo tempo e già conosco da quando vivevo a londra però ho ricevuto e ho acquistato questi charms se riesco a metterli in ordine e adoro la loro collanina fatta di charms perché me la posso costruire come voglio io ho ricevuto l'astronauta il numero 1 anche se avrei voluto il numero 3 ma mi hanno dato il numero 1 di conseguenza adesso penso che mi comprerò un altro numero che è l'8 perché io sono nata il 18 in modo tale da avere un senso dare un senso a questo numero e poi ho ricevuto anche questa collanina che dice lovers super cute io mi sono comprata lui che è l'aeroplanino di buon augurio e lui che è questo piercing bellissimo a cui andavo dietro da un sacco di tempo anche questi sono ormai sono una vecchissima collezione li ho comprati io nel 2020 sono di pd paola scusate la luce è molto blu sono in bagno ho ricevuto questa questa piccola pouch in cui posso mettere tutti i miei gioiellini ed è stupenda cioè guardate che meraviglia sono completamente obsessed l'ho quasi tutta già riempita e da pd paola ho anche ricevuto gifted loro sono dei semplicissimi orecchini con questo dettaglio se riuscite a vederli che sinceramente sto mettendo sempre ma siccome adesso sto andando in palestra non li metto quindi questo è pd paola adesso passiamo in cucina che vi mostro due piatti che ho comprati no due piatti e due bicchieri che ho comprato da Arquette quando ero a copenhagen io amo totalmente Arquette sono una grande fan sia dei loro accessori sia dei loro vestiti appunto camicie soprattutto e maglioni e della loro homeware soprattutto delle loro coperte e dei piatti e bicchieri mi sono regalata due piatti che sono lui che mi piaceva tantissimo e non sapevo se era disponibile online quindi ho approfittato e l'ho comprato e lui bellissimi per servire a volte ci faccio colazione a volte li metto così quando devo mettere snackini toast cose del genere e poi ho comprato anche due di questi che sono dei bicchieri che utilizzo sia come bicchieri per l'acqua che come bicchieri per il caffè o il cappuccino super cute li adoro e danno un pochino di colore diciamo alla tavola l'ultima cosa che ho acquistato a copenhagen scusate già si è sporcata è questo tray della hay design che ho comprato però non alla hay ma al museo della gliptotech quello che sta appunto nel famoso museo kalsberg non mi ricordo come si chiama vabbè il museo di copenhagen ho comprato anche questa bellissima penna che penso sia sempre sì della hay design che tra parentesi è lo stesso identico brand da cui ho acquistato la mia amatissima luna la lampada di riso e poi ho comprato anche la matitina e questo è il nome del museo probabilmente lo pronuncio gliptotech gliptotechet sì lo pronuncio malissimo e infine ho ricevuto da colvin questi fiori stupendi sono delle peonie sono felicissima perché ovviamente i fiori in casa mi rendono sempre super felice io vi ricordo sempre che trovate sotto in descrizione il codice sconto nel caso in cui volete soffrire del 15 o 25 a volte va fino al 25% di sconto utilizzando il mio codice che mi sembra sia a creative life su colvin in cui potete trovare piante fiori ad esempio anche lei è di colvin anche i pampas sono di colvin comunque se vi volete fare un regalo volete fare un regalo a qualcuno magari un matrimonio una laurea una nascita un compleanno qualsiasi cosa quindi questo è quanto sono felice di aver chiuso un pochino così il vlog perché a copenhagen ho vloggato molto poco ma come potete vedere ho fatto tantissimi video su instagram e piccoli reel che ho postato anche qui su youtube e anche su tiktok quindi potete trovare negli shorts i miei 4 giorni a copenhagen descritti ora per ora giorno per giorno insomma quindi mettete mi piace e andatevele a vedere e noi ci vediamo super super presto con un nuovo video ciao 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 ciao